Benvenuti in un nuovo video analisi tattica di Diego Albador attaccante dell'Avellino. Diego Albador è una punta centrale dell'Avellino nato a Napoli 26-2-89 fisicamente un attaccante molto strutturato con il suo 1,85m che lo rende molto abile sulle palle alte. È un colpitore di testa ed è molto abile nel difendere la palla soprattutto di spalle alla porta. Dispone di un'ottima tecnica e forza fisica infatti dispone di un tiro molto molto e preciso. Essendo una prima punta predilige giocare in un attacco a 3 ma non sfigura anche nei sistemi di gioco a due punte con un compagno preferibilmente più mobile e rapido che gli gira a torno. Qui vediamo in quest'azione un suo inserimento occupa lo spazio centrale dando punto di riferimento ai propri compagni di squadra. Anche sulle palle inattive a favore è molto abile di testa. È molto abile nello smarcarsi nonostante nel suo ruolo deve essere un poco statico. Il suo punto forte dice nome colpo di testa e il gioco aereo in generale. Qui vediamo il gol realizzato contro la Paganese. Il gol rettuato di testa con una torsione. Un altro punto a favore di questo falciatore è la difesa della palla. In questo caso riceve palla di spalle alla porta. Molto difficile per un difensore rubargli palla nell'uno contro uno senza commettere palla. Anche una buona visione di gioco è spesso in grado di creare pericolose sponde o passaggi per i compagni. Considerando la sua struttura fisica è comunque molto rapido e agile nel girarsi nello stretto. Anche qui possiamo notare la sua capacità della difesa della palla e anche la capacità di smarcamento e posizionamento. In questa azione la difesa della palla è eccellente. E grazie alla sua visione di gioco l'intelligenza tattica e abbinata a una buona tecnica individuale riesce a servire i compagni sulla fascia. Qui possiamo rivedere. E' comunque molto abile nel defilarsi e lasciare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. E' sempre un riferimento in avanti anche nella gestione della palla. Spesso girisce quasi da regista avanzato e dà il via alla manovra. Dispone di un tiro molto potente e preciso come in questo caso. Grazie a tutti.